Anche quest'anno il Comune di Campodarsegu aderisce al progetto Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana. Consentirà ai cittadini di prenotare e ricevere gratuitamente giovani alberi e arbusti autoctoni. Il Comune provvederà poi ad ottobre al ritiro delle piantine presso il Centro di Biodiversità Vegetale e fuori foresta di Montecchio Precalcino al trasporto e alla distribuzione ai cittadini che ne avranno fatto richiesta mediante il portale www.ridiamolsorrisoallapianurapadana.eu Ogni cittadino potrà richiedere un massimo di 10 piantine, sono 2000 quelle messe a disposizione del Comune di Campodarsegu.